Salve a tutti, sono Samuele e quest'oggi giochiamo a Brawl Stars Allora, gioco sempre insieme a mio amico Aspetta, c'è anche suo fratello Perfetto, direi E ci siamo tutti Allora, vediamo Cosa scegliamo No, non si può fare Rabino, dai Rabino Con Con chi avvacciamo Rabino Questo è il mio primo personaggio Sbloccato, proviamo con lei, dai Sto tutti e due da vicino Serve anche uno da lontano Allora Vediamo cosa si può fare Calcola che i miei colpi possono volare Sono molto male Sono amminato tantissimo Vabbè, io non c'ho molta vita Ma stiamo vincendo o sbaglio? Ma ancora non ho provato la sua mossa speciale Qual è? Ah, è vero Bellissimo A tutti i dettagli e spara Cacchio Dai, io ne metto un'altra Ed è pure nascosta Ah, sono mortissimo Sono mortissimo Scappo Oddio Vai, torretta Proteggimi tu Oddio, è morta pure la torretta Ho pochissima vita Picchia l'orso Perfetto Morto l'orso Chi sono? Dai Ok, c'ho di nuovo la torretta Vai, mettiamolo un'altra qua Dai, che siete mortissimi Pure la torretta mia è morta Ce n'è un'altra Beh, signori Si vincerà O non si vincerà Ma, secondo me Si vincerà Dai, che è morto L'ho ucciso io, signori Ma quanto stallo? Ok Dobbiamo andare ad attaccare Io l'ho capito Ma Come sarebbe? Sì Abbiamo vinto Abbiamo vinto noi Ok Abbiamo recuperato Qui ci siamo Gratuito Mi danno 12 monete Ma che schifo Fate schifo Fate Adesso che abbiamo vinto qua Vedo una mano E famo la pina Qui sto a cambiare brawler Ok Contro 508 Dovei Eh Però Mica male Sto a metà Mille Capitare Prima che ci arrivo Comunque Si Quella De Se avete sentito Ieri C'era mio cugino A fare il video E ho deciso di chiamarvi Chichi Vabbè Che Beh Sì dai Ci sta Sceglierò di chiamarvi Chichi Comunque Stavamo già messi Benissimo Uno da lontano Uno da vicino E uno Da mezzo Perché attacca da Ovunque No L'ho ucciso Quasi Dai che c'ha poca vita Prendilo Morto Oh L'ho ucciso Se mi piace È morto Se mi piace È morto Ciao Torretta Sì Grande Samuele L'hai usata bene L'hai usata bene Me l'hanno distrutta Subito Me l'hanno distrutta Cioè Non col tempo di godermela Già Me l'hanno distrutta Guarda che sono tutti morti Samuele Vai Picchia Ok Morto Alza la torretta Controlla Dove c'ha La squadra rossa Ma andò stanno Oh Ma andò stanno Ma andò stanno Ma andò stanno Eh sì, godunito. Vabbè, dai vinceremo noi forse, non si sa se si vincerà. E poi rimbalzano via queste palle, che fighe. Dai, ah! Chi era? Ma chi era? Porca miseria che stanno 9 a 0. Voglio sapere i gumi. Ah, beh, c'è me. Lo devi sciuttare. Ok, sì! Era quello che ce n'aveva di più, io sono morto, però fa niente. Siamo abbastanza salvi. Che mossa? L'ho tenuto scalso. Eh, sono morto, sono morto, sono morto. Comunque c'è la mossa speciale. Vai! Ho messo la torretta, non so dove ma l'ho messa. C'è una torretta in giro. Chi era? Eccola la torretta, porca miseria. Siamo perdersi di tre... Ah, beh, ok, lì è morto qualcuno. Ma ne manca ancora un altro, che non so dove abbiamo perso. Stavano là dietro. Ah, vabbè. Si è purgannato quello, però c'è la cassa. Ave Maria, piena di grazia. Vabbè. Sì, diavolo. Ah, vai! Diciotto. Stecca. Quattro. Che schifo, vai! Dieci? Non mi basta. Posso bestemmiare? Che? Ah, fratello. Vai, possiamo fare sopravvivenza. Ok? Bull. Ma che comandi tu qua? Che comandi tu? Comunque lì. Dai, sopravvivenza. Facciamo sopravvivenza. Sopravvivenza in due. Pronto? Pronto? Ok, io so. Sì, 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 sì. Allora. Vinciamo. Ok, non al centro. Andiamo al centro. Andiamo al centro, andiamo al centro, andiamo al centro, andiamo al centro. Si è morto, caro amico. Sono morto troppo, è morto anche lui. Yeeeh, quindi, ok, non è stata una buona mossa andare al centro. Vabbè. Allora, adesso cambia. Ce la possiamo fare, ma perché io odio sto tipo di mappa? che vanno tutti al centro qua? Qua la zafra è più dispersa. Andiamo, su. Andiamo, andiamo. Chissi, sono già piatti tutti. Andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua. Ok! Ottimo, ok. Siamo messi bene, ok. E' una buona dattica. Andiamo prima fuori e poi al centro. Dai che ce n'è una che non sa nemmeno... Ok, cacchio. Ok. Eh, ma quanti personaggi ci stanno con questa? Raga, non lo santo sto io. E non mi prende, quindi. Ok. Ce n'è un'altra. La faccio fuori io. Marta, 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 stiamo a dieci. Dieci livelli, raga. Possiamo vincere. Siamo forti. Voi rimossa speciale. E' nel gruppo. Troppo gruppo. Ah, io che dolore. Che è morta? E' morta qualcuno? No, sta qua. La maledetta. Ando scappi, che tanto ti ammazzo. Dove è no? Ecco. Morta. Stiamo a undici. Uccidilo. No, nel gruppo mi sono filato. No. Amico, vallo a prendere per noi. Mi sono andato a suicidare malissimo. Sette. Sei. Cin. Quattro. Tre. Due. Uno. Vai, ci sono. Andiamo, andiamo, andiamo. E abbiamo vinto. Cioè, io con due livelli, con due livelli so riuscire a ammazza quello. Comunque, giù tonne stella, abbiamo. Sì, sì, grazie. Sì, dopo decisione. Tretta, due. Eh sì, eh sì. Stiamo diventando sempre più forti. Rifacciamo, che dice, amico? Sai c'è chi c'è? Ah, bene, nessuno. Aspetta. Accetto. Rigiochiamo, dai. Su. Sempre qua. Siamo sempre qua. No, aspetta. Che dice? Favamo vedere. Allora. Lui cambia brawler. Ma perché? Guarda che vince, non si cambia. No, guarda che muscoli che mi sono fatto. Guarda. Guarda che muscoli che c'ho. Allora, vabbè. Noi ci fermiamo così. Ci vediamo la prossima volta. E vi concludo questo video con una bella vittoria. No. Ciao.